Più di 350.000 persone sono scese in piazza Roma per il No Be Day, organizzato da un gruppo di blogger per chiedere le dimissioni di Silvio Berlusconi. Il colore scelto per la manifestazione, che si svolgerà in altre 45 città del mondo, è stato simbolicamente un funereo viola. Molti rappresentanti dell'opposizione che hanno aderito, ma i manifestanti hanno voluto ricordare l'indipendenza dell'iniziativa dai partiti politici. Volete esserci? Venite. Non volete esserci? Ok, è uguale. Bisognerebbe che il Parlamento si occupasse di come affrontare la crisi, piuttosto che pensare a trovare una legge che salva il Premier. Un'altra tegola sulla testa del Presidente del Consiglio all'indomani delle dichiarazioni del pentito Spatuzza su un suo presunto coinvolgimento con esponenti mafiosi. Silvio Berlusconi è stato contestato anche a Torino, dove ha inaugurato la linea ad alta velocità sulla direttrice Milano. Il Presidente ha replicato le accuse ricordando il suo impegno nella lotta alla mafia e l'arresto nelle ultime ore dei boss nicchi e fidanzati.